Allora come sapete tutte le iniziative del festival sono gratuite. Questo accade grazie alla condivisione che gli sponsor hanno avuto di questa manifestazione dell'impegno della passione ci hanno messo tutti gli organizzatori. Quindi io ringrazio perché sono qui presenti il presidente della Banca del Valdanno Gianfranco Donato per la sensibilità dimostrata e per dare l'occasione a tutti noi di vivere queste iniziative gratuitamente e saluto e accolgo la vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis, la regione toscana è tra i sostenitori del Moby Dick Festival. Grazie, solo un saluto, solo per ringraziare davvero Sergio, l'amministrazione comunale e chi ha organizzato, organizza questo, soprattutto perché a me capita di girare in provincia ed anche in regione davvero tante persone qua dove non si compra niente, non c'è nulla da mangiare, riempie il cuore e dice che questo mondo c'è ancora speranza di vivere di cultura e di buona cultura. Complimenti. Allora, ci scusiamo il programma è molto fitto quindi siamo un po' di corse e cerchiamo di rispettare i tempi per far parlare tutti e farvi anche cenare alle 8 di stasera. Mi associo a ringraziamenti vivissimi per gli sponsor perché ci stanno permettendo di fare una cosa a cui tenevamo tantissimo ma come sempre serve l'impegno, la passione, la disponibilità ma anche le risorse. Un ringraziamento in particolare, mi sento di farlo oggi, poi lo farò anche nelle prossime ore e domani, un ringraziamento particolare innanzitutto al sindaco che ha creduto e sta credendo in questo progetto senza limiti. Penso sia stato il miglior sindaco degli ultimi cinque anni, quindi è stato freddo. l'altra cosa, un ringraziamento a voi per essere così numerosi e ci state aiutando a mettere in difficoltà il sindaco per allargare la struttura al prossimo giro. se vorrà, un ringraziamento a voi per essere un pubblico così partecipativo, numeroso e disciplinatissimo, davvero grazie di cuore e un grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando dietro questa manifestazione che non si vedono ma stanno impazzendo per portare e riportare gli ospiti ed è una cosa bellissima e la loro passione ci sta aiutando. Non mi dilungo oltre con un firruge che ci lega un po' a quello di cui abbiamo parlato ieri con il professor della chiesa sull'insegnamento, sull'importanza di imparare. oggi grazie anche all'aiuto di un ospite che sarà qui domani e che è stato qua nella prima edizione, Vittorio Emanuele Parsi, che ci ha permesso di arrivare innanzitutto a Massimo Cacciari e ci ha permesso di organizzare anche questo incontro anche grazie a Mauro Amerighi e a Padre Staid per questo nuovo appuntamento. Chiamo sul palco il professore Enrico Letta e Alessandra Sardoni per il prossimo evento. Grazie. Applausi. 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 Buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza. e naturalmente dobbiamo partire, visto anche il tema, visto il firruge, come diceva Paolo Martini, partiamo dalla domanda facile e difficile insieme. Che cosa ha imparato? Ha scritto un libro su questo Enrico Letta e che cosa ha imparato Enrico Letta e poi dopo io lo aggiungo subito così che cosa ha imparato? Si è imparato dalle sconfitte la sinistra in Italia. Allora intanto grazie, sono davvero felice, voglio un ringraziamento particolare a padre Enrico Staid perché grazie a lui che sono qua e grazie a lui che sono tornato a Terra Nuova, Bracciolini mi lega a questa parte della Toscana un rapporto molto intenso, come sapete sono Pisano, quindi ci accomuna la Toscanità e con tutto ciò che c'è attorno ad Arezzo ci accomuna anche un'altra cosa, il fatto che quando uno va a Firenze trova normalmente dei ritratti, dei grandi affreschi su tutte le battaglie che i fiorentini hanno combattuto contro gli Aretini e contro i Pisani. E quindi a me gli Aretini stanno simpatici per definizione, tutto ciò che capita qui attorno. Sono davvero molto contento e faccio i complimenti a Paolo Martini, al sindaco per questa bellissima occasione, cercheremo di essere all'altezza della vostra generosità. Innanzitutto perché la parola imparare? La parola imparare perché mi sono reso conto in questi tempi che in Italia era una parola che era uscita di moda, imparare. Perché imparare? Uno va su internet, fa la domanda a internet e c'è la risposta. Quindi perché faticare per imparare qualcosa? C'ho la risposta subito. E l'altra cosa, faticare per farsi delle competenze è una cosa tutto sommato che serve a poco, non dà quella necessità di spinta sulla quale invece chi, le generazioni prima di noi, quando io penso al miracolo economico italiano, io penso al miracolo economico che è stata la parte più bella della nostra storia, forse. Io penso in quel momento cosa è stato il miracolo economico? Ed è questo il motivo per cui ho voluto usare questa parola imparare. Il miracolo economico è stato un momento in cui c'è stata una straordinaria convergenza sociale. Famiglie di genitori non laureati, non diplomati che hanno spinto i figli a studiare, a faticare, hanno faticato loro per farli studiare e hanno studiato questi ragazzi insieme di qualunque classe sociale fossero. Ho l'esempio di quello che mi hanno raccontato i miei genitori. A Pisa, la mia mamma veniva dalla Sardegna, il mio babbo veniva dall'Abruzzo, anni cinquanta, anni sessanta e si ritrovavano lì nei pensionati universitari, perché erano senza famiglia lì ovviamente, insieme a ragazzi che venivano da tutta Italia e la sera condividevano insieme quei ragazzi che venivano da una famiglia che non erano in grado di andare a mangiare la pizza fuori e quei ragazzi invece figli di famiglie ricche che invece offrivano la pizza a tutti. E hanno studiato tutti insieme, hanno fatto tutti insieme una grande esperienza di formazione, di educazione ed è stata questa spinta alla fine che ha fatto grande l'Italia. Quando vedo oggi il nostro paese, ed è il motivo per il quale ho tanto preso la questione della formazione come per me è questione centrale, oggi vedo invece una profonda divergenza, non convergenza e se vedo un problema oggi nel nostro paese è la divergenza che c'è sull'educazione e la vedo in tanti modi, innanzitutto a una questione di tipo proprio censitario pensavamo che fossero finite queste divergenze e invece sono tornate ancora più forti di prima e quando vedo oggi, sento, ascolto, famiglie, come si dividono oggi le famiglie italiane sul tema dell'educazione, della scuola? Le famiglie che hanno i mezzi, che hanno i soldi mangano i figli a studiare all'estero, li mandano a fare un anno di liceo fuori, li mandano a fare l'università fuori, li mandano a luglio a fare quei campus attorno a Oxford, a Cambridge vanno tutti lì, tutti italiani, giocano a pallone tutto il tempo, parlano italiano tra di loro poi tornano senza aver imparato l'inglese, fanno spendere un sacco di soldi ma l'obiettivo è quello e si spendono un sacco di soldi e lo possono fare le famiglie che hanno le risorse per farlo e poi la grande maggioranza delle famiglie italiane che invece si deve adattare a quello che ha e quindi a un'educazione basata sul sistema pubblico che certo non manda, tranne casi eccezionali, a studiare all'estero e il nostro paese si sta dividendo in due perché alla fine fare un'esperienza all'estero è una straordinaria esperienza utile, apre, fa imparare le lingue ma se questo lo possono fare solo quelli che hanno i soldi in Italia il nostro paese ha già perso in partenza ed è la necessità invece di riprendere la logica della convergenza per cui, e mi fermo qui nel libro, io faccio una proposta che mi sta più a cuore alla fine di tutte, che è la proposta di fare, se avessi la bacchetta magica in Europa metterei tutti i soldi che si possono mettere per fare obbligatorio per tutti i ragazzi europei di 16 anni l'Erasmus per gli adolescenti, cioè un'esperienza che tutti i ragazzi di 16 anni facciano che sia, che possa essere, che possa essere fatta con le risorse europee, che quindi possa essere un'occasione sia per tutte le famiglie che possa consentire di fare un'esperienza da un'altra parte, due mesi, pensate due mesi dell'anno scolastico, di uno degli anni scolastici fatti attraverso ovviamente un sistema organizzato e tutto perfetto in un altro paese capire che se da Terra Nuova vai a fare due mesi di scuola a Siviglia o vai a fare due mesi di scuola a Zagabria sei a casa lì, non c'è il nemico lì accanto e un'esperienza di questo genere è l'antidoto più grosso al nazionalismo perché ricordiamoci sempre che il costruire i nemici, il costruire i nemici e individuare in chi è il paese confinante, il nemico, ogni volta che lo si fa conduce sempre al disastro e siccome mi sembra di capire che questa logica di vittimismo, di costruirci dei nemici attorno, è una logica che sta cominciando a prendere piede, io penso che il nostro paese debba seriamente riflettere a questo, questa è una piccola proposta che io faccio ma pensate se l'avessimo realizzata vent'anni fa, pensate se generazioni interi di ragazzi avessero fatto quello che hanno fatto solo i ragazzi dell'Erasmus all'università che purtroppo sono un numero molto piccolo termino su questo mi ha colpito, perché ho fatto questa proposta e perché l'abbiamo messa a punto una proposta fatta anche a livello europeo perché ho visto dei dati su come si muovono i ragazzi italiani nel 2016 su 18 milioni di giovani italiani 16 milioni e mezzo non sono mai usciti dal nostro paese 16 milioni e mezzo su 18 un milione e mezzo sono usciti sostanzialmente per vacanza e 30 mila hanno fatto l'Erasmus lo dico perché lo dico a me stesso innanzitutto fa parte delle autocritiche di cui parlo nel libro io ho imparato a stare molto attenti alle bandiere che usiamo perché quando parliamo d'Europa sapete quanto sono europeista ma sapete anche quanto sono autocritico su un certo linguaggio un po' retorico e un po' con la forfare un po' in bianco e nero che usiamo spesso sull'Europa perché se sull'Europa diciamo che l'unico successo dell'Europa è la pace e l'Erasmus andiamo poco lontano perché i ragazzi di oggi solo un numero uno 0,5% fanno l'Erasmus e la pace è una cosa che riguarda le generazioni coi capelli bianchi chi a oggi è giovane non l'ha sperimentata la guerra non sa che cosa vuol dire ecco perché questa riflessione deve essere una riflessione che ci porta molto più avanti ed ecco perché per me dedicarmi oggi al tema della formazione dell'imparare e del lavorare con questi straordinari ventenni che in Italia sono la vera speranza che abbiamo di fronte ve lo dico perché ci lavoro ogni giorno scommettiamo su questa generazione una generazione secondo me veramente straordinaria diciamo che ha imparato l'importanza dell'imparare mettiamola così che tutto si si concentra su questa parola e questa è una proposta molto concreta e secondo me sono anche molto importanti questi numeri che che ha illustrato Enrico Letta è un richiamo alla realtà e forse invece la mancanza di una presa sulla realtà è la critica che prevalentemente viene rivolta alla sinistra allora io arrivo a questo tema che penso che non si possa eludere ma che sia anche importante in questa fase tutto sommato il Partito Democratico lei si è allontanato per per un periodo poi ha partecipato alle primarie votando per Nicola Zingaretti è in una fase diversa il Partito Democratico però a volte l'impressione è che comunque sia stata saltata la fase del perché si è arrivati a una sconfitta molto forte clamorosa storica del Partito Democratico alle elezioni politiche di che cosa non abbia funzionato al di là diciamo anche degli aspetti politici più diciamo più terra terra o più semplici che sono quelli anche che magari raccontiamo noi nei talk nelle cose però che cos'è che non ha funzionato nel rapporto con la realtà cioè io ieri ho presentato un libro a Perugia al Festival del Giornalismo di una grande firma di Repubblica che è Filippo Ceccarelli che si chiama ha un sottotitolo che è sul potere da De Gasperi a questi qua allora è una cosa che ho fatto anche discutere questi qua però perché non è mia è di Filippo Ceccarelli che non c'è però che cosa è stato possibile riguardo a questo che cosa ha imparato anche da un osservatorio molto interessante lontano ma nemmeno tanto lontano a giudicare anche tutti i conflitti con la Francia sì io sono divido la mia vita oggi tra due attività principalmente una è il lavoro che è l'attività quindi universitaria a Parigi con tanti studenti italiani tra l'altro e l'altra è una attività no profit che ho creato quattro anni fa in Italia che ho tenuto in questi quattro anni assolutamente sotto i radar ne ho parlato pochissimo perché perché le cose funzionino bisogna tenerle un po' sotto i radar bisogna che se ne parli poco che si facciano senza tanti discorsi che è nata sostanzialmente si chiama scuola di politiche ed è nata con l'idea di dare a dei ragazzi italiani la possibilità di una formazione alle istituzioni che è stata possibile grazie alla generosità di tanti amici amici come Parsi che è qui uno dei tanti che generosamente ha dedicato il suo tempo a questi ragazzi e grazie alla generosità di tanti amici che hanno preso delle borse di studio per questi ragazzi 100 ragazzi italiani all'anno che fanno un percorso di questo genere e parlando con loro ragionando con loro per me è stata molto interessante cercare di capire perché e ragionando con loro alla fine mi sono detto che c'era bisogno di innanzitutto di una politica che lavori sul buon esempio oggi una frase detta e tolta dalla bocca di chi la dice è una frase che interessa poco voglio sapere chi la dice se la dice una persona credibile mi va bene se la dice una persona non credibile non mi va bene il legame tra la frase e la persona e la credibilità della persona l'esempio è fondamentale che è il motivo per il quale io questa scuola l'ho voluta dedicare parliamo di centro-sinistra di sinistra di figure emblematiche a una persona oggi i ragazzi di 20 anni non sanno nemmeno chi era è stato il mio maestro sia in università sia poi in politica è morto un po' di anni fa si chiamava Andreatta Nino Andreatta e perché l'ho fatto e l'ho voluto dedicare a questa persona per due motivi che sono le due cose che racconto ai ragazzi all'inizio del percorso che facciamo insieme il primo motivo è forse la cosa per la quale Andreatta è stato più famoso nella storia italiana e qual è stata questa vicenda è stata la vicenda in cui in uno dei momenti più bui dei peggiori scandali del nostro paese Sindona Banca Ambrosiano l'assassinio di Ambrosoli Marsinkus la Banca Vaticana mettete tutto insieme e penso peggio di così il nostro paese non si è mai andato è stata una vicenda terribile da cui poi è nata la P2 e tutto il resto un pozzo di fanghiglia che era il cuore del nostro stato e lui era ministro del tesoro in quel periodo e prese una decisione la decisione fu quella di essere prima servitore dello stato e poi di seguire le indicazioni che i due ambiti che lui frequentava lui era cattolico praticante quindi ed era democristiano quindi il partito dal quale veniva e decise di non seguire quello che gli veniva proposto di fare lui non me l'ha mai raccontata questa storia che vi sto per raccontare me l'hanno raccontata i collaboratori suoi dell'epoca perché non aveva e probabilmente non l'avete mai sentita perché è una storia che non ha mai raccontato ma nel passaggio cruciale di quel momento in cui gli veniva chiesto di mettere una pietra tombale sullo scandalo di salvare il banco la banca vaticana di non toccare tutti gli equilibri che erano di salvare Sindona eccetera eccetera lui cosa fece invece di andare una mattina che doveva andare in parlamento prendere la posizione come governo su quella vicenda sul commissariamento o meno della banca vaticana gli chiesero di andare prima alla sede del suo partito dove il segretario del suo partito gli doveva spiegare in una riunione che cosa avrebbe dovuto fare e lui non c'erano era il 1980 non c'erano i telefonini non c'era niente era un'altra epoca quella lì era ovviamente sotto scorta perché era il periodo di Moro lui era uno degli allievi prediletti di Moro uno dei collaboratori di Moro si fece portare dalla scorta in giro per tutta la mattina per i castelli romani quindi al sud girò tra Albano tra Nemi eccetera e poi improvvisamente tutti si chiedevano dove erano fecero quella riunione senza di lui poi improvvisamente fece andare la macchina con la scorta direttamente in Parlamento entrò dalla porta di servizio salì le scale di servizio si presentò in aula chiese la parola e disse quella che è stata la posizione la decisione che dalla quale poi sono nate tutte le cose positive che conosciamo che ha chiuso quella vicenda che ha portato al commissariamento e che ha chiuso la sua carriera politica perché nel rimpasso successivo fu ovviamente cacciato dal governo e stette poi per dieci anni completamente fuori una storia che racconta che cosa vuol dire servire lo Stato e non servirsi dello Stato è una storia che si aggiunge a quello che ha sempre detto ai ragazzi come me i giovani come me che l'hanno conosciuto in università ci hanno lavorato e volevano lavorare con lui e lui diceva sempre che è quello che io dico ai ragazzi e che è l'altro criterio di questa scuola se volete fare politica dovete prima avere nella vita un mestiere perché se fate politica ed è l'unico vostro mestiere quando vi verrà chiesto di dire delle cose o di fare delle cose che la vostra coscienza non accetta voi troverete tutti i compromessi per al fine farle dirle perché quello è il vostro stipendio di fine mese e avrete una famiglia avrete delle costrizioni avete delle cose e ci ha sempre detto fate politica con professionalità ma che non sia una professione che è il motivo per cui io penso ho citato queste due cose perché alla fine penso che alla fine si sia perso questi valori essenziali si sia presa una strada che è una strada di una politica che non viene percepita come servizio allo Stato al Comune alle persone ma che viene percepita come servirsene e perché non si è fino in fondo colto il fatto che soprattutto oggi quando uno fa di tutto per rimanere attaccato a una poltrona e finisce per alla fine vendere anche i valori essenziali di tutto quello in cui ha creduto alla fine si vede subito tutto questo si vede subito oggi è tutto trasparente quindi vince soltanto l'autenticità quindi io uso questa parola che è una parola che ho imparato in questi anni perché la parola autenticità secondo me deve essere la parola con cui si rilancia o possa rilanciarsi una proposta politica in Italia che lotti contro le ineguaglianze una proposta politica che lotti contro il razzismo che lavori per la solidarietà che lavori per rimettere insieme non per dividere una proposta politica che sia in grado di dare speranza ai giovani e ai meno giovani del nostro paese che sia in grado di ridare il senso della comunità una proposta politica la vuoi chiamare di sinistra chiamiamola di sinistra una proposta politica che però sia e dia il senso della comunità quella che abbiamo perduto in questi anni in questi anni in cui è montato il rancore è montata su ogni tema la lotta tra ultimi e penultimi anche sui temi più complessi e la necessità secondo me di lottare e lavorare perché tutto questo sia frutto di lezioni imparate e sia soprattutto l'idea che non si può non voltare le pagine in modo significativo e nel libro dico molto chiaramente a me non piace le cose la strada che ha preso il nostro paese ma so che per cambiare strada c'è bisogno innanzitutto di capire perché ci si è arrivati e non ci si è arrivati per caso ecco ma perché ci si è arrivati perché si è perso questo filo perché si è perso questo filo ci si è arrivati perché si è immaginato che il potere volesse dire la distanza rispetto alle persone alle scelte da fare ci si è arrivati perché non si è dato fiducia alla gente anche per esempio nelle cose più semplici e secondo me elementari qual è una di queste? perché non si sono capite le paure come dice qualcuno è anche quello sì ma quando dico non si è capito la volontà più elementare delle persone io penso che io da cittadino quale sono oggi voglio votare per esempio però voglio votare scegliere il mio parlamentare io oggi vedo che l'Italia ha una legge elettorale nella quale puoi fare tutto tranne che scegliere il tuo parlamentare hai una legge elettorale nella quale sostanzialmente scegli uno dei cinque grandi capi e poi è lui che alla fine decide chi è in Parlamento e chi ti rappresenta la legge elettorale questo l'italicum come il precedente porcellum io non ho votato nell'una nell'altra l'ultima è stato l'ultimo voto che ho dato ho votato contro e ho votato contro la fiducia per la prima volta nella mia storia politica perché ritenevo che fare una legge elettorale e metterci il voto di fiducia sopra fosse una roba contro qualunque regola della Costituzione perché alla fine le regole del gioco si fanno insieme non si fanno in una logica e perché sono stato contro per un motivo molto semplice che se la logica dei partiti che l'hanno fatta era la logica di dire noi ci arroghiamo il diritto di creare i gruppi parlamentari sostanzialmente i gruppi parlamentari li decidiamo noi chiediamo ai cittadini di votare per i partiti ma alla fine chi mettiamo in Parlamento lo decidiamo noi se la gente al 33% in Italia ha votato 5 stelle il 4 marzo è anche per questo motivo è perché tanti cittadini hanno avuto voglia di impegnarsi politicamente e non hanno trovato lo spazio per farlo nei partiti tradizionali e si sono impegnati lì e alla fine lì hanno trovato uno spazio non sto dicendo non sto dando un giudizio sto dicendo un dato oggettivo è stato così e quello spazio l'hanno trovato forse perché gli altri non gli hanno dato allora secondo me questa per esempio è una delle questioni essenziali sulle quali si è persa la connessione con la voglia di partecipazione delle persone ci si è chiusi e non si è capito che bisogna dare fiducia alle persone non bisogna avere paura delle persone c'è una domanda che voglio fare perché che mi viene proprio dal racconto che lei ha fatto di Andreatta molto bello non lo conoscevo se non appunto però lo trovo molto bello e anche che ci pone una riflessione e un confronto con l'oggi su una questione molto concreta non vorrei sembrare passare dall'alto però c'è un'occorrenza concreta in cui questa storia mi piacerebbe fare un confronto allora con l'oggi il caso Tria allora noi abbiamo un ministro dell'economia che si è mostrato diciamo in autunno ha presentato si è battuto perché la manovra i conti pubblici le previsioni della crescita i numerini come li ha chiamati Di Maio fossero alcuni numerini è stato violentemente sconfessato dai vice premier di Maio Salvini e dal presidente del consiglio ovviamente sono andati sul balcone ce la ricordiamo tutti quell'immagine 2,4% invece poi una lunga trattativa lo spread che saliva eccetera eccetera e sappiamo com'è andata alla fine però hanno come dire un po' abbassato le penne in governo e quindi è tornato alla cifra di partenza però intanto si era consumato quello che si poteva consumare e così si è arrivati a oggi oggi l'impressione è che invece ci sia come dire un conflitto aperto e una una tensione una tensione forte allora io le chiedo che cosa avrebbe fatto Andreatta se sul piatto perché quello che dice il ministro Tria sia diciamo nei retroscena ma anche sulla scena quindi anche ufficialmente pubblicamente è se però io me ne vado adesso io posso resistere un po' perché se io me ne vado lo spread succede un 48 allora che cosa avrebbe fatto Andreatta e quando vale la pena e poi comunque lo sappiamo anche questo c'è il Quirinale poi bisogna sempre vedere se è vero questo comunque diciamo nella volgata giornalistica c'è il Quirinale che dice no però fermi tutti quanti allora cosa avrebbe fatto Andreatta e fino a che punto e cosa dovrebbe fare Tria cioè che cosa dovrebbe difendere secondo lei non lo so non riesco a mettermi nei panni di Tria mi torna oggettivamente difficile quello che trovo molto inquietante adesso scusate se se butto una secchiata d'acqua gelida sull'entusiasmo della nostro pomeriggio in un posto bellissimo con il sole fuori ma io ho l'impressione e ho la libertà di poterlo fare di poterlo dire perché ho l'impressione che ci sia una totale non comprensione del dramma che il nostro paese sta vivendo dal punto di vista economico lo dico perché siamo tutti ne abbiamo vissute troppe e quindi c'è in giro complessivamente l'idea di dire adesso non ricominciamo col dramma lo spread le cose cioè abbiamo tutti voglia di tranquillità nessuno vuole di nuovo una crisi nessuno e io tutto voglio tranne che come diceva fare i gufi eccetera eccetera però a Firenze ecco quello che però voglio dire è che in pochi mesi in pochi mesi la mia impressione parto dai dati essenziali è che si siano veramente messe le basi per un tracollo economico e finanziario del nostro paese nei prossimi nella seconda metà di quest'anno io non penso che per quel poco che mi conoscete sapete che non sono uno che fa allarmismo facile o dice le cose così io penso che siamo vicini a una situazione abbastanza di tracollo vi cito due tre cifre che però sono tutti i paesi europei hanno rallentato la crescita sono tutti tra l'uno e il 4% di crescita l'Italia oggi viene certificata a meno 0,2 cioè l'ultimo è staccato dal penultimo è come un ciclismo quando il gruppo di coda c'è uno che a un certo punto si stacca e se si stacca poi diventa difficile noi ci siamo staccati siamo gli ultimi e siamo staccati è stata fatta una manovra in cui la gran parte dei problemi sono stati rimandati a dopo sono state messe delle cifre grazie anche a una generosa trattativa con l'Unione Europea che non voleva crisi adesso anche perché la Commissione Europea è in fase finale sono state messe delle cifre che sono chiaramente scritte sulla sabbia è stato scritto che si faranno 19 miliardi di privatizzazioni adesso negli ultimi 15 anni si è fatta una media di 400 milioni all'anno di privatizzazioni quindi l'idea che adesso si facciano di colpo 19 miliardi fa parte del periodo ipotetico della irrealità la crescita è crollata si è creata una condizione soprattutto per la quale gli investimenti si sono fermati il messaggio che è stato dato è le infrastrutture non si fanno più gli investimenti non sono interessanti si è fatto una sola operazione che è un'operazione di redistribuzione attraverso quei due interventi quota 100 e il reddito di cittadinanza cioè si è usato le risorse che ci sono per redistribuirle in modo diverso che è assolutamente legittimo non la metto in discussione il problema è che la torta sta riducendosi se si redistribuiscono risorse di una torta che si sta riducendo e non si lavora per farla crescere aggiungo tutto questo in deficit e oggi c'era la notizia di un debito che ha raggiunto il record storico si crea secondo me una condizione in cui se a questo aggiungiamo l'isolamento cioè il fatto che abbiamo deciso di isolarci da tutti abbiamo rotto con la Francia abbiamo rotto con la Germania abbiamo rotto con Bruxelles perché Juncker viene ogni giorno dipinto in modo più insultante e abbiamo fatto l'alleanza con due nuovi alleati i nostri due nuovi alleati sono la Polonia e l'Ungheria e la Polonia e l'Ungheria sono entrambi fuori dall'euro quindi non partecipano alla decisione sull'unione monetaria io penso che queste scelte tutte fatte negli ultimi mesi siano scelte che stanno duramente mettendo a durissima prova i conti pubblici l'economia italiana la crescita si è fermata e ci stiamo isolando in Europa dobbiamo sperare che non ci sia nessuna crisi internazionale dobbiamo sperare che ci sia un'evoluzione nel prossimo semestre e che le cose riprendano in positivo ma io penso che anche quello che è successo con la Cina l'altro giorno lo dica lunga siamo in una fase di grande tensione vogliamo scegliere se essere una colonia cinese o una colonia americana perché la mia impressione è che se noi rompiamo con l'Europa come hanno fatto gli inglesi che sono usciti o forse sono usciti se 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 vogliamo rompere con la nostra essere europei noi abbiamo una scelta sola essere colonia americana o essere cinesi perché una cosa è sicura nel mondo di domani da soli non c'è nessuno spazio e io penso che noi dobbiamo essere europei perché alla fine essere europei è molto meglio che essere una colonia cinese o una colonia americana scusami se faccio una piccolissima mi permetterete ma vi racconto una piccolissima storia che che mi serve proprio per questo ragionamento questo qui che cos'è questo qui è un immagine che ho trovato su un giornale che mi hanno regalato la domenica del Corriere dell'agosto del 1966 cioè quando sono nato io mi hanno regalato la domenica del Corriere di quell'agosto e andandola a sfogliare ho trovato era un numero straordinario perché è il numero in cui Montanelli fa la polemica sulla famosa frase si stava meglio quando si stava peggio quindi un numero molto importante lo sfoglio e trovo questa immagine cosa dice questa immagine questa immagine sono sostanzialmente cento personaggi è il villaggio globale del 1966 il mondo come era diviso e i cento personaggi cinquantacinque sono in Asia noi europei ci mettiamo al centro perché noi ci autorappresentiamo sempre al centro quindi il vignettista ci mette al centro siamo ventuno europei su cento e poi pochissimi in America Latina pochissimi in America del Nord e pochissimi in Africa e mi sono detto caspita nel 1966 eravamo noi europei 21 per cento del mondo sono andata a vedermi i dati ed era veramente così allora ho detto forse questa può essere le chiave per fare un ragionamento che possa aiutare a dire che cosa io penso perché so che le immagini oggi sono più importanti delle parole lo dico se non fosse che la parola d'ordine del festival Moby Dick è la parola ma la parola conta e allora che cosa ho fatto? ho chiesto a mio fratello che si occupa di editoria e gli ho chiesto perché non provi a fare la stessa immagine su che cosa? su quando la mia generazione la prima immagine è del 66 quando sono nato ho detto facciamo quando la mia generazione lascerà questa terra e allora ho detto siccome poi io non riesco mai a essere creativo sono molto sobrio con i piani per terra quindi ho detto 2050 se fossi stato Berlusconi avrei detto 2090 sarei stato 2050 e ho detto 2050 ho preso i dati della demografia del 2050 e i dati danno questa seconda carta e questa seconda carta cosa ci racconta? ci racconta due cambiamenti uno che non si vede e uno che si vede quello che non si vede ci porta su un altro discorso che tocco solamente come titolo quello che non si vede è il fatto che la terra del 1966 100 abitanti rappresentavano 3 miliardi di persone i 100 personaggi del 2050 rappresenteranno 10 miliardi di persone quindi da 3 a 10 questo lo dico perché quando Trump dice che il riscaldamento climatico è una balla degli anti americani che l'hanno inventata per mettere il bastone tra le ruote all'industria americana e dobbiamo essere seriamente preoccupati perché ha ragione invece tutti i ventenni che hanno invaso le nostre piazze per fare una giusta protesta sul clima hanno totalmente ragione la questione chiave del nostro futuro è la questione climatica pensate che nel 66 3 miliardi di persone che non avevano l'aria condizionata non viaggiavano in aereo avevano pochissime automobili immaginatevi 10 miliardi di persone tutte con l'aria condizionata tutti che viaggiano in aereo tutti con l'automobile credo che ci sia seriamente da pensarci ma e vengo così alla risposta ma la seconda il secondo cambiamento è quello che si vede e cosa si vede? che tutto rimane uguale gli asiatici sono gli stessi gli stessi? no sono 55% erano 55% di 3 miliardi e sono 55% di 10 miliardi quindi c'è un unico vero cambiamento noi eravamo il 21% del mondo e guardate quanti siamo oggi quanti saremo scusate nel 2050 saremo 6% del mondo 6% del mondo del 2050 e guardate gli africani che erano il 7% del mondo nel 1966 e che saranno il 21% del mondo dei 10 miliardi io dico queste cose non per spaventare perché questo sarà un mondo fantastico sarà un mondo pieno di un sacco di opportunità sarà un mondo nel quale avremo un sacco di cose da imparare e un sacco di cose da vedere sarà un mondo migliore di quello del 1966 io non sono un nostalgico perché dico che sarà un mondo migliore di quello del 66? per un motivo molto semplice io che sono un anti-europeo vi faccio vi invito a googolare io che sono un pro-europeo vi invito scusate vi invito a googolare per andare a vedere l'immagine da cui è nata l'Europa per dire che non dobbiamo essere nostalgici del passato dobbiamo avere fiducia nel futuro l'immagine da cui è nata l'Europa è l'immagine della firma dei trattati di Roma del 57 c'è un'unica foto non ci sono altre foto un'unica prendete quella foto un attimo andate a vedere trattati di Roma 1957 la foto del Campidoglio è impressionante quella foto io ho contato 80 personaggi sono tutti maschi bianchi tra i 50 e gli 80 anni quando uno dice che abbiamo un'ostalgia del passato francamente no nel senso che se la politica del passato era tutta fatta di maschi bianchi tra i 50 e gli 80 anni io credo che oggi abbiamo davanti forse qualcosa di positivo ma tutto questo per dire che cosa per dire che queste due immagini ci dicono perché dobbiamo fare all'Europa io non è che difendo l'Europa qualunque cosa faccia ma quando uno vede queste due immagini non è che c'è molto da discutere il mondo di domani se non saremo noi europei tutti insieme saremo o cinesi o americani ed è il motivo per il quale Brexit si sta incasinando così perché alla fine si stanno rendendo conto che hanno scelto Brexit pensando a questa immagine al mondo del 66 e invece si ritroveranno a essere da soli piccolini nel mondo del 2050 perché il sovranismo declinato con queste due immagini non ha molto senso nel 66 l'Italia da sola faceva due personaggi la Gran Bretagna faceva due personaggi ma nel 2050 un singolo paese europeo da solo farà troppo poco e io credo che questa idea del fatto che noi europei abbiamo molto da dire al mondo ma abbiamo da dire al mondo se siamo uniti se saremo divisi ripeto potremo scegliere se essere una colonia americana o una colonia cinese e io non voglio essere né una colonia americana né una colonia cinese io faccio continuo a fare la parte di quella che torna al presente però al presente così a un orizzonte molto limitato però che Enrico Letta ci ha detto che non è un orizzonte molto positivo mi pare sulla situazione economica però leggo dall'intervista al Corriere della Sera di oggi del presidente del consiglio Conte dice la crisi in cui parlava è dovuta soprattutto alla guerra dei Dazi la Cina ha rallentato la Germania sta risentendo molto di questa situazione noi dipendiamo dalla Germania tutto ciò ha portato a un rallentamento delle esportazioni c'è una frenata delle costruzioni e le risposte a questo finiscono le virgolette le risposte a questa situazione dice il giornalista del Corriere per il premier si chiamano decreto crescita e sblocca cantieri con le leggi delega che riformeranno il codice appalti semplifichiamo il quadro regolatorio riduciamo gli adempimenti burocratici e poi ha rivendicato appunto anche il come dire il successo possibile evidentemente la previsione che fa del decreto crescita allora volevo chiederle se intanto se regge l'analisi del perché siamo in questa situazione è effettivamente così e quindi non c'entra niente la politica economica che si sta facendo e poi qual è l'orizzonte cioè che cosa può succedere qual è lo spazio di manovra del governo anche dentro una dinamica di rapporti con l'Europa io su questo sono molto netto so che le mie parole possono essere parole criticate attaccate perché si sa come la penso si sa che io penso che il posto dell'Italia sia accanto alla Francia alla Germania e alla Spagna sia lì il posto dell'Italia accanto nel senso che siamo al centro dell'Europa e siamo noi che insieme a loro dobbiamo decidere e io penso e lo dirò e lo voglio spiegare perché credo che tutta la narrativa che è stata fatta in questi mesi sia una narrativa falsa è la narrativa che racconta che l'Europa ce l'ha con noi che i francesi e i tedeschi ce l'hanno con noi che sono i nostri nemici io non sto qui dicendo che non abbiamo contenziosi con i francesi e i tedeschi la Libia con i francesi con i tedeschi il fatto che non hanno voluto completare l'unione bancaria ci sono tante singole questioni sulle quali siamo in conflitto con gli uni con gli altri ma quello che qui voglio dire è un'altra cosa l'Italia da sette anni a questa parte ha fatto una scelta e questa scelta l'Italia l'ha portata avanti con tutti i governi che si sono succeduti qual è stata questa scelta c'è stata la crisi economica e finanziaria 2008 l'Italia è affondata più di tutti gli altri e abbiamo pagato quell'affondamento come crisi sociale successiva da lì è nato tutto dopo la prima fase della crisi il nostro paese ha deciso politicamente di reagire e ha deciso di reagire a livello europeo e ha costruito una rete di alleanze perché la politica europea cambiasse questa rete di alleanze con chi l'abbiamo costruita e qual è stato il momento chiave il momento chiave è stato febbraio del 2011 quando si è dovuto scegliere il successore di Trichet alla Banca Centrale Europea e i due candidati che si scontravano in quel momento il 2011 era il momento più duro della crisi e l'Italia era sott'acqua due candidati si sono scontrati e da lì ci sono dei momenti nella storia in cui cambia tutto nei momenti in cui può andare in un senso e può andare nell'altro i due candidati chi sono schierano il governatore della Banca Centrale tedesca si chiamava Axel Weber e il governatore della Banca Centrale italiana cioè Mario Draghi in quel momento l'Italia ha fatto un'alleanza con la Francia e con la Spagna un'alleanza che ha messo la Germania in minoranza sulla politica monetaria quell'alleanza guardate lo dico perché bisogna essere bisogna dire la verità quell'alleanza l'hanno fatta Berlusconi e Sarkozy e Racoy tre governi di destra l'abbiamo portata avanti tutti quelli che sono venuti dopo convintamente Monti io Renzi Gentiloni dopo Sarkozy Hollande e Macron dopo Racoy il socialista Sanchez perché quell'alleanza era fondamentale perché se si dava retta alla politica monetaria tedesca saremmo ancora fermi al momento della crisi che avevamo grazie a quell'alleanza Draghi è stato eletto alla Banca Centrale Europea e ha avuto il consenso politico per fare le politiche che ha fatto espansionistiche sulle quali i tedeschi hanno sempre votato contro e noi abbiamo guidato la politica monetaria europea e questo ha consentito di salvare l'euro la Grecia l'Italia di tenere dentro tutto questo e di evitare l'esplosione finale dico questo perché il racconto che viene fatto da noi oggi è il racconto di dire l'Italia non conta niente ce l'hanno tutte contro di noi e noi siamo fuori da tutto andate a parlare con un tedesco chiedetegli un attimo cosa pensa della politica di Draghi in Germania sono profondamente contro quella politica perché quella politica espansionistica ha usato i soldi di tutta la banca centrale europea per rafforzare le situazioni di difficoltà tra cui la nostra quella scelta bipartisan che hanno portato avanti i governi di destra e di sinistra oggi viene raccontata come un qualcosa che non esiste tanto che noi oggi rompiamo con la Francia rompiamo con la Germania e ci alleiamo appunto con la Polonia e l'Ungheria cioè due paesi che sono fuori dall'euro allora cito questo punto per dire che questa vicenda è secondo me la chiave di tutto noi abbiamo bisogno di fare delle scelte che siano in grado con forza di chiedere di chiedere all'Europa agli altri paesi europei di essere conseguenti con quello di cui ha bisogno l'Europa l'Europa ha bisogno di investimenti quindi c'è bisogno di rafforzare tutto ciò che è investimenti a livello europeo ha bisogno di completare tutti i meccanismi di salvataggio rispetto alle crisi bancarie che i tedeschi non hanno voluto c'è bisogno di un'Europa che aggiunga a tutto questo la clausola sociale cioè l'intervento europeo che si è in grado quando ci sono situazioni di crisi sociale di intervenire con l'assicurazione contro la disoccupazione a livello europeo tutta una serie di cose che si possono fare soltanto con delle alleanze se non ci sono delle alleanze queste cose non si fanno se si è da soli tutte queste cose non si otterranno si lasceranno semplicemente gli altri a essere tra di loro cito queste cose perché secondo me queste sono le cose principali dopodiché che l'Europa oggi per noi debba essere il terreno sul quale misurarci non è legato solamente a queste questioni di politica monetaria immediata è legato anche ad altre grandi questioni ho citato l'ambiente prima vogliamo che le regole dell'ambiente nel mondo le mettano Trump e i cinesi no io penso che le debbano mettere noi europei sono le regole più avanzate e sono le regole più avanzate perché l'Europa su questa è avanzata e noi siamo stati dentro questa logica ma vi voglio fare un esempio spendo tre minuti su questo esempio che sono convinto vi farà riflettere a me ha fatto molto riflettere quando questa vicenda l'ho colta fino in fondo l'Europa ha perso la battaglia tecnologica per esempio sui telefonini se fossi venuto qua dieci anni fa e avessi chiesto chi ha un telefonino europeo chi ha un Nokia probabilmente un terzo della sala avrebbe alzato la mano se adesso vi chiedo chi ha un telefonino coreano alzi la mano chi ha un telefonino coreano un Samsung chi ha il Samsung in tasca chi ha un telefonino americano chi ha l'Apple in tasca chi ha adesso il bello chi ha il Huawei chi ha il telefonino cinese c'è qualcuno che c'è il Nokia un applauso per i Nokia presenti in sala ma perché ho fatto questo ragionamento per un motivo molto semplice il telefonino che voi avete in tasca che avete in mano non è il telefonino di dieci anni fa è un'altra cosa il telefonino che avete in mano per la prima volta nella vita di ognuno di noi è la nostra seconda identità non è mai esistito un luogo dove ci sia stata una nostra seconda identità nel telefonino c'è tutto quello che ho fatto tutto quello che ho detto tutte le persone con cui ho parlato tutti i siti che ho visitato dove sono stato come ho guidato in macchina trovate tutto nel telefonino è la mia seconda identità attenzione questo lo dico ai ragazzi che sono qui presenti come lo dico sempre ai ragazzi che lavorano con me attenti ragazzi perché la mia generazione potevamo fare tutte le stupidaggini che ci pareva non rimaneva traccia delle nostre stupidaggini attenti perché un giorno un datore di lavoro che vi farà una colloquio di lavoro non si accontenterà di quello che gli dite o del foglio di carta che gli date andrà a vedere i vostri social avrà visto cosa avete postato prima di postare una stupidaggine state attenti perché la vostra vita è tracciata in ogni passaggio della vostra vita perché sto dicendo questo e cosa c'entra con l'Europa è la cosa più importante di tutte quelle forse che voglio lasciarvi oggi in questa mia presenza qua è che la mia seconda identità e poi ce ne sarà una terza fra qualche anno che sarà il robot che farà le cose al posto mio la terza il terzo me stesso ma la mia seconda identità cioè il telefonino nel quale c'è tutto quello che sono io io che sono del terzo americano della sala so che questa mia seconda identità è stoccata da qualche parte a Cupertino in California ed è sulla fiducia che io la metto lì ma la fiducia so che è mal riposta e vi ricordate lo scandalo Cambridge analitica con Facebook è l'esempio di che cosa vuol dire io penso che le guerre del futuro si combatteranno sulla proprietà dei dati che ci sono sui nostri telefonini perché avendo quei dati si vincono le campagne elettorali si vincono le campagne pubblicitarie si governano i mercati si ricattano le persone si ricattano le aziende si ricattano i governi il che vuol dire che il nostro futuro e guardate questo discorso tre anni fa non l'avrei fatto questi sono temi totalmente nuovi di cui abbiamo contezza oggi perché faccio questo ragionamento e cosa c'entra l'Europa mi direte abbiamo già perso la battaglia sulla tecnologia attenzione che la vera battaglia adesso è quella sulle regole sulla proprietà di quei dati delle nostre identità ci sono tre poli nel mondo gli americani noi e i cinesi cosa pensano gli americani di questo gli americani pensano che non bisogna mettere regole che non bisogna mettere i bastoni tra le ruote rispetto alla competitività delle loro aziende high tech quindi bisogna fidarsi delle aziende high tech e non ci sono regole cosa e a me non piace non piace cosa pensano i cinesi i cinesi pensano esattamente l'opposto che bisogna controllare il cittadino usando l'accesso a quei dati usando l'accesso a quei dati io posso fare il trip advisor del cittadino posso dargli 5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle o 1 stella posso usando quei dati sapere se il cittadino si è comportato bene o male e questo è gravissimo perché io rispetto lo Stato e se non rispetto lo Stato c'è una sanzione per me se non rispetto le regole ma io non tollero che lo Stato entri dentro me stesso la nostra e non mi piace la logica cinese c'è una cosa che ci accomuna tutti in Europa i diritti della persona la pensiamo così che siamo svedesi o portoghesi che siamo francesi o italiani la persona è inviolabile nei suoi diritti e questa seconda identità fa parte della persona se noi saremo tutti divisi 28 Brexit ogni paese europeo per conto suo anche su questo potremmo decidere se essere americani o se essere cinesi e anche su questo io non voglio essere né americano né cinese perché per me l'inviolabilità della persona è una delle più importanti ragioni per le quali ho sempre fatto politica il valore che sta dietro al diritto della persona è il cuore di tutto ed ecco perché attorno a questi temi la questione dell'Europa è così importante ed ecco perché non facciamoci tante volte tanti di noi pensano eh però Salvini che batte i pugni un po' sul tavolo gli fa bene ai tedeschi eh però questo o come alle volte mi è capitato di sentire tanti dibattiti in cui in trasmissione televisiva importanti come quelle che Alessandra Sardoni guida Trump mette i dazzi contro i tedeschi contro le macchine tedesche ah to bene ai tedeschi ben gli sta che sono i ragionamenti tipici del modo con cui ragioniamo senza renderci conto che innanzitutto i dazzi se vengono messe sulle macchine tedesche vengono messe su tutte le macchine europee e quindi colpiscono anche noi secondo luogo nella macchina tedesca metà della tecnologia della macchina tedesca è italiana posti di lavoro tutti italiani quindi il ragionamento che io voglio qui fare con grande forza è che perdere questo aggancio alla nostra tradizione ai valori europei alla battaglia che insieme agli altri europei dobbiamo fare nel mondo di domani è il tradimento maggiore che noi possiamo fare per i nostri figli e io questo tradimento non lo farò mai avrei abbiamo ancora cinque minuti non lo so l'organizzazione cinque minuti allora avrei due domande poi la distribuzione del tempo è libertà di rispondere insomma di distribuire il tempo per le risposte però una riguarda la destra cioè il vento di destra un po' sono forse i fatti di Torre Maura Casa Pound anche se naturalmente è una minoranza però comunque è un segno e a questo proposito mi colpisce mi colpiva oggi un'intervista del ministro della giustizia Buonafede dei Cinque Stelle sul Repubblica Buonafede che ammoniva la Lega diceva la Lega studi la storia perché c'è il rischio delle derive dell'ultradestra quindi lo diceva all'alleato e questo è il segno che i Cinque Stelle provano a fare la sinistra e quindi sono diversi e quanto la preoccupa come si combatte dal suo punto di vista immagino e perché c'è questo vantaggio della destra e anche dell'ultradestra c'è un vento che è legato alle paure le paure che cosa da dove nascono le paure io ho usato nel libro un proverbio che a me piace molto che dice quando soffia impetuoso il vento del cambiamento c'è chi alza muri e c'è chi guardando lontano costruisce i mulini a vento alzare i muri perché c'è il vento che arriva addosso è una cosa naturale io non non condanno chi lo fa capisco perché è assolutamente istintivo la paura ce l'abbiamo tutti la paura del cambiamento la paura del diverso la paura della tecnologia del cambiamento tecnologico che non gli stiamo dietro sono paure fortissime generazionalmente sono paure che ci ecco qual è il punto vero il punto vero è come si risponde a queste paure perché si può rispondere a queste paure buttando benzina sul fuoco e alla fine però credo che non sappiamo dove si vada a finire buttando benzina sul fuoco oppure si cerca di rispondere cercando di capire la fragilità delle persone oggi qui c'è secondo me mi viene fatta la domanda sulla destra io rispondo sulla sinistra qui c'è un grande campo per una sinistra moderna e qual è questo campo per la sinistra moderna racconto un piccolissimo episodio che racconto anche nel libro che è il seguente in questi anni in cui mi sono occupato di altre cose tra le varie cose ho dato una mano a alcune persone nelle marche che hanno cercato di fare qualcosa per ricostruire i paesi distrutti dal terremoto già l'appennino si stava spopolando il terremoto ha accentuato tutto questo a questo si aggiunge il fatto che negli ultimi vent'anni anche nella nostra toscana i servizi si sono dovuti restringere ogni paese prima aveva il suo presidio ospedaliero o quasi oggi sappiamo tutti come funziona tutto questo soprattutto nelle zone montane crea nei paesi abitati soprattutto da persone anziane un senso profondo di paura di assenza di fiducia e qual è il punto e qual è una delle piccole cose che ho visto nascere e che secondo me rappresentano delle risposte possibili a queste paure a questa fragilità quello di costruire per esempio in uno dei comuni terremotati con dei soldi privati quindi costruito totalmente con dei contributi privati un laboratorio di telemedicina che è collegato all'ospedale il più vicino purtroppo è a un'ora e mezzo di macchina cosa fa quel laboratorio di telemedicina dà un'immediata risposta positiva alla paura rispetto ovviamente alle persone anziane che abitano lì è stato per adesso un successo che anche a me ha colpito molto ma perché l'ho citato perché dobbiamo porci oggi il problema in gran parte di questo tema della fragilità che richiama la questione del rapporto tra le periferie e i centri qui l'esperienza che mi è capitato di vivere in Francia in questo periodo con i gilet gialli per me è stata estremamente istruttiva qual è l'esperienza chiave della vicenda dei gilet gialli è che lì c'è lo scontro tra la fine del mese e la fine del mondo cosa voglio dire chi in periferia ha indossato il gilet giallo e ha detto basta l'ha fatto contro una misura che è difficile dire di essere contro una sovrattassa sul diesel il carburante più inquinante l'ambiente siamo tutti per l'ambiente ma qual è stato il ragionamento di queste periferie noi non arriviamo alla fine del mese non abbiamo la forza per pensare alla fine del mondo quando lo scontro arriva a mettere insieme questa contraddizione la fine del mese e la fine del mondo e alla fine la stessa cosa riguarda l'immigrazione a me è piaciuto moltissimo immagino molti di voi l'abbiano visto quando parliamo di immigrazione per me il film cult è come un gatto intangenziale e l'ho trovato un film delicato intelligente ma preciso che dice la verità cioè dice attenzione perché si crea senza sapere come gestire il fenomeno si crea la guerra tra ultimi e penultimi e la guerra tra ultimi e penultimi è insopportabile che è esattamente poi il caso di Torre Maura dell'altro giorno perché la possiamo prendere come ci pare ma è il caso di Torre Maura ed è evidente che su questa vicenda c'è bisogno della politica è quando la politica abdica e lascia perdere tutto che alla fine la contraddizione esplode però c'è una tendenza della sinistra a negarla esatto cioè la negazione io ti rispondo anche con la verità dei numeri allora c'è una percezione della pressione dei migranti della presenza dei migranti in Italia che corrisponde alla percezione al 40% al 30% la realtà è 7 siccome è 7 è tutto ingiustificato è tutto assurdo la verità che non è ingiustificato per un semplice motivo che quei 7 sono sparsi in modo disuguale sul paese e quindi hai delle concentrazioni in zone che sono già zone difficili dove la lotta tra ultimi e penultimi diventa insopportabile per non parlare solo di Italia fate questa esperienza se vi capita di andare a Parigi per dire che il problema poi è generalizzato prendete la metropolitana 2 che è quella che fa tutta la riva destra di Parigi è la metropolitana che parte dai quartieri ricchi della città passa ai quartieri nel quale ci sono in gran parte abitanti di colore e termina nei nuovi quartieri giovanili dove in gran parte sono bianchi e se prendete quella metropolitana voi vedete nelle prime fermate entrano ed escono soltanto bianchi poi quando si arriva nel nono o nel decimo entrano ed escono soltanto neri e poi si finisce entrano ed escono di nuovo soltanto bianchi la vera questione che noi abbiamo davanti è questa questione dell'integrazione ed è una questione che dobbiamo affrontare senza populismo e senza strumentalizzazione chiedendo responsabilità e rispetto la cosa che io ho trovato più incredibile nel decreto sicurezza è l'aver tagliato i fondi per imparare l'italiano allora mi si deve spiegare qual è la logica di una misura di questo genere se qualcosa dobbiamo chiedere a chi accogliamo è quello di integrarsi e di sapere l'italiano è un dovere che dobbiamo chiedere a queste persone in cambio dell'accoglienza che noi siamo tenuti a dare ma è evidente che questa è una delle condizioni essenziali perché funziona se questo non c'è e se non c'è questa forma di integrazione allora salta tutto allora diventano tutti ghetti e diventano tutti impossibili convivenze ecco perché attorno a questo non dobbiamo nascondere i problemi dobbiamo affrontarli nel libro parlo addirittura di un super Mario Draghi per gestire l'immigrazione cioè di una personalità europea al quale dare tutti i poteri per riuscire a armonizzare amalgamare e riuscire ad affrontare il rapporto poi con i paesi terzi credo che sia una delle questioni sulle quali ci giochiamo tutta la prossima il prossimo quinquennio in Italia in Germania la Germania ha integrato 500.000 persone nell'arco degli ultimi tre anni sono cifre delle quali noi non abbiamo nemmeno idea di che cosa vuol dire dopodiché attenzione l'hanno fatto l'hanno fatto come i tedeschi sanno fare cioè quando decidono una cosa lo fanno con un fortissimo mal di pancia nella società ma l'hanno fatto anche per un motivo molto semplice che i tedeschi hanno fatto due conti sul loro futuro e in Germania peggio che da noi ma noi siamo sullo stessa lunghezza d'onda negli ultimi vent'anni scusate nei prossimi vent'anni in Germania uscirebbe e uscirà il 25% della forza lavoro uscirà vuol dire non è che sarà sostituito la Germania perderà il 25% della forza lavoro per l'invecchiamento della popolazione e quindi la locomotiva tedesca o integra persone che vengono da fuori o non ce la fa siccome anche noi siamo una locomotiva al nostro modo perché non siamo un paese di servizi siamo un paese che vive di industria e di industria manifatturiera in gran parte noi dobbiamo porci il problema e quindi dobbiamo sapere come integrare e se non ci poniamo il problema e non sappiamo come integrare semplicemente non vogliamo dare un futuro all'Italia chi agisce così e mette i muri semplicemente non vuole dare un futuro all'Italia Allora abbiamo finito tutto il tempo e quindi non resta comunque resta da metterla insieme la risposta quindi quando si dice questione della destra si arriva al tema dei migranti mi pare che sia andata così e poi c'è un'ultima domanda per una risposta sintetica se no ci cacciano però è anche su Enrico Letta nel senso futuro politico sta nella politica in che modo è un ritorno è un ritorno a casa penso molto semplicemente che io sono innamorato della politica ho cominciato a far politica nel liceo Galileo Galilei della mia città ho fatto rappresentante degli studenti per passione lì poi ho all'università di Pisa l'ho fatto poi sono andato in consiglio comunale sala delle Baleari Palazzo Gambacorti la politica ce l'ho dentro guardate che la politica si può anche fare fuori dal Parlamento io il messaggio che voglio dare è questo si può fare politica impegnarsi anche senza stare compresa la campagna per le europee ma compresa quella e compresa la campagna per la formazione delle persone per fare sì che il nostro paese sia un paese non razzista ma un paese solidale per fare sì che il nostro paese riscopra i valori che sono i valori dell'Italia perché l'Italia non è quest'Italia che ci stanno raccontando e un'altra riscopriamola io ci combatterò grazie grazie buonasera grazie 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 grazie